Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto ben ritrovati per quanto riguarda la pagina informativa del nostro audio videogiornale. La direzione investigativa antimafia ha eseguito un sequestro di prevenzione disposto dal Tribunale di Trieste, sezione misure di prevenzione, nei confronti di un cinquantenne di Napoli, Ettore Peluso, destinatario nel tempo di vari provvedimenti cautelari personali e reali e arrestato nell'ottobre 2020 a seguito del sequestro di un'arma da fuoco e del relativo munizionamento detenuti illegalmente, di gioielli, orologi di valore e di una considerevole somma di denaro, verosimilmente frutto di attività usuraia e estorsiva, aggravante dall'utilizzo del metodo mafioso. Il valore complessivo dei beni sottoposti a vincolo, si parla di contanti preziosi e motoveicoli di grossa cilindrata, è stimato in oltre 220 mila euro. La misura consegue a una proposta presentata dal procuratore distattuale di Trieste sulla scorta di accertamenti svolti dalla DIA Giuliana, che hanno consentito di mettere in luce, secondo gli investigatori, la pericolosità sociale dell'uomo e la riconducibilità in capo lo stesso anche per il tramite di prestanome di un patrimonio sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati propri e del nucleo familiare. Il 2023 si è concluso con un traffico da record complessivamente sulle strade autostradali della A4 Venezia-Trieste, A23 Udine-Sud-Palmanova, A34 Villesse-Gorizze e A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano. Ne dà notizia la concessionaria Alto Adriatico, precisando che i dati sono ancora provvisori. Tuttavia, considerando le serie storiche, nell'anno che si è appena concluso è stato registrato il massimo dei transiti mai registrati sulla rete soggetta a pedaggio, con oltre 50 milioni di transiti, 50 milioni 330 mila per la precisione e un più 5,8% rispetto all'anno precedente. Di questi, 36,2 milioni sono veicoli leggeri, più 7,13% e 14,13 milioni sono stati mezzi pesanti, più 2,53%. Complessivamente sono stati 2,6 miliardi i chilometri percorsi dai veicoli nel tratto di gestione della concessionaria. La prevista ondata di maltempo in arrivo per il weekend dell'Epifania ha portato alla decisione di rinviare alcuni appuntamenti con i ritti dei fuochi epifanici in Friuli-Venezia-Giulia. Pignarui, Foghere, Fugarelle, Cabosse, Panevine, Seime, questi nomi in base alle zone. Alcuni di questi saranno posticipati al giorno dopo, qualcuno di una settimana. Confermata, indifferentemente dalle condizioni meteo, l'accensione alle ore 19 del 6 gennaio del Pignarul Grant sul monte di Coia a Tarcento, ma sarà sacrificato lo spettacolo pirotecnico. Grazie per la visione all'ascolto, ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.